Benvenuto e benvenuto in questo nuovo video del Laboratorio di Excel per Tutti. Mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come utilizzare la funzione di database di BISOM. Bene, partiamo da un esercizio. In questo esercizio ci viene chiesto di aggiungere una funzione di database nella cella F5 per calcolare la somma dei ricavi di vendita che riguardano le zone geografiche, sud o isole, e di utilizzare per il criterio l'intervallo di celle A1, D3. Dunque, andiamo a specificare innanzitutto quelli che sono i criteri per le zone geografiche e diciamo sud e poi isole. Perfetto. Ora, nella cella F5 andiamo a richiamare la funzione DBISOM, la funzione database. database, doppio clic, F di X, gli argomenti sono 3, il database che fa riferimento a tutto l'intervallo di dati, dunque dalla cella A5 alla cella D39, il campo è l'etichetta della colonna, un numero che rappresenta la posizione della colonna nell'elenco, dunque i ricavi di vendita. Quali sono i criteri? I criteri sono quelli indicati all'interno dell'intervallo A1, D3. Diamo l'ok e il risultato è appunto 119.900 euro. Per fare una verifica andiamo a applicare quelli che sono i filtri, dati, filtri, ok, dunque andiamo a dire filtrare per, abbiamo detto isole e poi sud. Diamo l'ok per confermare, andiamo a selezionare l'interno intervallo e poi dunque dalla barra di stato, leggiamo il risultato, 119.900. Bene, ora se all'interno, passiamo a un nuovo esempio, se non andiamo a indicare nessuna zona geografica, dunque non andiamo a indicare quelli che sono i criteri, il risultato sarà una semplice somma. Dunque in questo caso utilizziamo la funzione di bisomma. Per calcolare semplicemente la somma, il database è sempre l'intervallo di celle da 5, D39. Facciamo un, andiamo poi a specificare quello che è il campo, che è il ricavi di vendita e poi ovviamente andiamo a selezionare i criteri, ora in questo caso a uno di due, ma lasciamo i criteri vuoti. Dunque il risultato sarà appunto 189.900, che corrisponde al total, diciamo, all'intervallo di dati, alla somma dell'intervallo di dati che ci restituisce appunto 189.900. Bene, passiamo ad un ulteriore esempio, in questo esempio andiamo a indicare all'interno dei criteri una zona geografica e ricavi di vendita, per esempio andiamo a specificare la zona geografica sud e ricavi di vendita che sono, che magari lasciamo vuoti, dunque andiamo solo a specificare un solo criterio, sud, andiamo qua a mettere l'uguale, mettiamo db-somma, db-somma, fdx, ancora una volta, database, sempre i dati presenti all'interno dell'intervallo, il campo, sempre i ricavi di vendita e i criteri, con un solo criterio, quello del sud, diamo all'ok, perfetto risultato, 63.600. Ancora l'esempio successivo, qua andiamo a specificare due criteri, per esempio supponiamo sud, ricavi di vendita, per esempio maggiori di 5.000, andiamo a costruire la funzione, rapidamente, db-somma, doppio clic, dunque l'intervallo di dati, poi successivamente abbiamo il campo che sono l'etichetta che indica i ricavi di vendita e poi i criteri sono quelli presenti, sempre a 1 di 2, diamo l'invio, risultato 52.500 euro, dunque in questo caso tutti i ricavi maggiori 5.000 per la zona geografica sud, potrei ovviamente fare la verifica applicando poi i filtri. In questo ulteriore esempio andiamo invece a indicare due zone geografiche e le specifichiamo, come nell'esempio iniziale, sud e isole, dunque abbiamo due righe differenti e anche qua ovviamente dobbiamo indicare quelli che sono i diversi parametri database, 5 di 39, i ricavi di vendita, dunque la cella di 5, i criteri che corrispondono praticamente alla soluzione vista nel primo esempio, anche in questo caso 119.900. Passiamo ancora a un nuovo esempio, qua andiamo a indicare invece tre elementi, dunque tre criteri, il genere riprodotto, supponiamo panetteria, la zona geografica sud e poi i ricavi di vendita maggiori di 5.000 per esempio, la funzione è sempre la stessa, sempre la stessa costruzione, db somma, andiamo ora a selezionare l'intervallo del database, punte virgola, la cella di 5 con il criterio, punte virgola, i criteri a 1 di 2. Diamo l'invio, risultato 17.900, ancora un nuovo esempio, andiamo qua invece a specificare tre zone geografiche, andiamo sud, isole e poi nord, ok, in questo caso il criterio deve essere, deve comprendere anche l'ulteriore elemento aggiunto, dunque qua andiamo a dire sempre il database è lo stesso, possiamo eventualmente utilizzare anche una denominazione per fare riferimento al database, il campo è quello presente nella cella di 5, è l'intervallo dei criteri da A1 a D4, diamo l'invio, risultato è 158.400, passiamo a un ulteriore esempio, qua andiamo a specificare invece due geni di prodotto con una zona geografica, per esempio panetteria e poi l'altro dolciumi, 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 ok, e poi la zona geografica, supponiamo un'unica zona geografica che però deve essere ripetuta in corrispondenza di ogni genere del prodotto, di ciascun genere del prodotto, dunque anche in questo caso la funzione non ha i riferimenti di cella sono sempre gli stessi, dunque andiamo a indicare sempre il database, poi andiamo a specificare il campo dei ricavi di vendita e poi i ricavi di vendita alla cella di 5 e poi infine i criteri, dunque modalità differenti per utilizzare quella che è la funzione di BISOM, ci resta solo che andare a specificare i diversi criteri per ottenere il risultato desiderato. In questo ultimo esempio invece vediamo come utilizzare la funzione di BISOM attraverso i caratteri jolly, supponiamo che il genere del prodotto inizi con CA, dunque andiamo a mettere CA con l'asterisco e poi la zona geografica sia le isole, dunque in questo caso dovremmo ottenere, andiamo a controllare i dati, casalinghi e cancelleria, dunque la somma del genere del prodotto cancelleria e casalinghi delle isole, dunque di BISOM sempre stessa funzione, sempre riferimento al database, punte e virgola, cella dei ricavi, che sono i ricavi che vogliamo sommare e poi i criteri sono quelli da 1 a di 2, diamo l'invio e il risultato è appunto 17.300 che rappresenta, come appena detto, tutti i generi di prodotti che iniziano con CA e che appartengono a zone geografiche e le isole. Bene, spero che tutti questi esempi ti siano utili per capire l'utilizzo, come funziona la funzione database, per questo video è tutto, se non ci sei ancora iscritto al canale iscriviti per restare aggiornato, ti aspetto al prossimo video.